Anche in Abruzzo è stata avviata una petizione popolare per chiedere interventi a sostegno dei circa 4 milioni di pazienti che in Italia sono affetti da fibromialgia o sindrome fibromialgica, una malattia che provoca dolore diffuso, astenia e rigidità muscolare. Sappiamo che è maggiormente diffusa tra le donne, che rappresentano circa il 90% dei malati e che può comparire a qualsiasi età, ma il picco si colloca tra i 40 e i 60 anni con importanti ripercussioni sull'attività lavorativa e sul piano socio-affettivo. La causa è ancora sconosciuta ma si ipotizza un'origine multifattoriale. A sostegno delle persone che soffrono di questa patologia è sceso in campo il Comitato Fibromialgici Uniti, in Abruzzo il referente regionale Giuseppe Volpe che chiede che anche nella nostra regione ci sia il riconoscimento sanitario auspicando un incontro a breve con l'assessore alla sanità Nicoletta Verini. Diagnosticarlo è molto difficile perché non ci sono attualmente degli esami di laboratorio per diagnosticarlo. Diciamo che i dottori si basano sui famosi 18 punti tender point dove risultano 14 punti su 18 sensibili, oltre a una visita medica ben accurata diagnosticano così questa fibromialgia. Per curarla attualmente io sono un fibro fibromialgico, diciamo facciamo uso di antidolorifici da banco, molte vitamine che aiutano questi muscoli e anche dei mio rilassanti. Facciamo anche una petizione popolare affinché lo Stato ci venga incontro nel riconoscere questa patologia perché in altri paesi europei tipo la Spagna hanno già un bello un programma di LEA ed è riconosciuto, in Italia no.